la cazzo è forca figa fate giro di là perchè? cattacattacattas un teneo non vedi? li stanno arrivando! si si arrivano arrivano è nuovo questo eh un sandrini è nuovo questo eh no è lavata con perlana ahahah io ho già tutta questa Pietro ahahah ahahah oggi pomeriggio sto sempre sui leoni no lo metto sul mio che è è nell'amicizia del Rodri mancu 68 ci sono io con la motolatria mancu 68 mancu 12 su facebook vuoi che metti anche su facebook no 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 mancu 68 mancu 68 ma la vedi? c'è la motolatria no ma sono già andato dentro nel tuo sai che dopo sei dentro il metroino e sei fatto conci tornare mi fa il numero mi fa il numero mi fa il numero vai bello questo bello ci taglia 1 povera oh non puoi maltrattare così la gas gas però C'è quanto l'altro fatto io?